Italiano bello. Storie e letture in italiano. Avventura in montagna. Quindici. Buona guarigione. Padroncina è stata ricoverata per un paio di giorni all'ospedale e adesso ha una gamba ingessata. La nostra vacanza in montagna è finita prima del previsto e siamo tornati a casa. Padroncina si riposa e non fa quasi niente. Per questo amicone viene a trovarci ogni giorno e fa le pulizie, fa la spesa, cucina, ci porta a spasso. Anche io e Codi ci riposiamo. È stata una vacanza davvero stancante. All'ospedale padroncina ha raccontato dei castori pirata, della zattera volante e dei lupi, ma i medici non le hanno creduto. Una sera sento bussare alla finestra. Padroncina sta dormendo, così vado io ad aprire. Non ditelo a padroncina, ma io e Codi sappiamo aprire porte e finestre. Fuori c'è un gufo, ma non un gufo qualunque, è il gufo che abbiamo liberato dalla bottiglia. Una consegna per voi, dice il gufo appoggiando un fiore sul davanzale della finestra. Grazie, dico sorpresa, da parte di chi è? Ma il gufo non risponde e vola via. Questo gufo ha proprio un caratteraccio. Porto in casa il fiore e lo appoggio sul tavolo. È un bellissimo fiore bianco con dei pallini gialli al centro. È una stella alpina, un raro fiore di montagna. Un bigliettino cade per terra. Buona guarigione! Al posto della firma ci sono diverse impronte di animali. Impronte di lupi, castori e anche di cervi. E persino di un gufo. Incredibile! Penso sorridendo. Padroncina ne sarà felice. Grazie, amici del bosco!